bentornati al primo pomeriggio virtuale del nostro bootcamp dove parleremo di materiali ossia di testi di immagini di musiche e chi più ne ha più ne metta come reperirli e come gestirli a proposito di testi i testi devono sempre provenire da fonti autorevoli non vi venga in mente di utilizzare contenuti provenienti da fonte dubbie a proposito di persone autorevoli ecco Einstein utilizzate libri scolastici pubblicazioni accademiche scientifiche siti istituzionali comunque in generale utilizzate il lavoro di esperti e di professionisti di quel ramo lì e soprattutto andate a verificare chi sono gli autori basta una googlata che vi salva non la vita ma almeno la reputazione parliamo ora di cosa non si può fare ecco qua non si può utilizzare testi immagini coperti da copyright anzi per farvelo vedere cosa significa copyright questa c qua è il diritto d'autore che viene conferito in maniera automatica dalla legge a chi crea un'opera di ingegno e quindi solo lui può concedere di utilizzare quest'opera se non l'ha fatto esplicitamente mettetevela via non potete utilizzarla anche se sarebbe facile prenderla capirla e riutilizzarla certo perché con riguardo i testi potete fare una citazione breve in quel caso lì ovviamente va citato sia l'autore che l'opera da dove l'avete presa dopodiché appena aumentato un attimo il discorso cambia allora dovete utilizzare solo un materiale di cui possedete diritti d'uso in cui esplicitamente quindi in forma scritta l'autore vi ha dato la possibilità di farlo e uno può pensare vabbè però per una tesina io lo prendo e poi vedremo e invece no perché tanto dal punto di vista etico non è bello rubacchiare secondo è facile che vi becchino perché è molto facile adesso con piccoli software o anche con siti online gratuiti beccare chi utilizza e le opere le proprie opere scusate e poi c'è un'altra cosa pensate voi stessi se il vostro lavoro vi è costato tempo fatica impegno questo potrebbe anche meritare di essere utilizzato in futuro magari boh esposto pubblicato se vi va proprio bene e non c'è niente di peggio di non poterlo fare perché avete usato materiale di cui non possedete la licenza anche perché in giro per internet ce n'è molto con licenza free e di alta qualità come fare basta non dare in cerca di materiale con quella cd ma quello che ha queste due ciclo che sono quelle del creative commo cioè che è una licenza che è stata creata alcuni anni fa nel 2003 per dare la possibilità agli autori di dire se la mia opera può essere utilizzata gratuitamente da chiunque e perché questi autori si mettono a dare gratis il frutto del loro lavoro ma ci sono vari motivi uno del quale potrebbe essere ad esempio questo cioè crearsi un pubblico molti autori inizialmente sconosciuti danno la loro opera gratuitamente poi una volta che hanno si hanno fatto un po conoscere hanno un po di fama le opere successive le vendono altri motivi potrebbe essere quelli per cui una persona tipo molto spesso gli insegnanti amano creare dei contenuti che vanno ad aiutare altri insegnanti o altre persone per far crescere a livello sociale anche o anche la comunità stessa ci sono vari motivi fatto sta che ce n'è moltissimo di questo materiale ecco questo è il sito di creative commo italia quindi vi rimando li ho metto un link anche in calcio al mio video per farvi vedere per farvi capire qualcosa di più di questo tipo di licenza se volete approfondire un attimo vi passo a vedere invece la cosa fondamentale di questa licenza questa licenza è sempre accompagnata da questi simbolini qua questi pittogrammi sono quattro possa se ne uno o nessuno o tutti insieme dipende dalle combinazioni vogliono dire qualcosa di particolare allora il primo questo significa che dovete citare l'autore on by quindi utilizzate tutto quello che volete ma dovete citarlo il secondo invece dovete semplicemente non utilizzarlo per schieri per fini commerciali no commercial quindi e altrimenti dovete pagare o chiedere una licenza specifica il terzo che è quel quel sembolo di uguaglianza vuol dire che va proprio lasciato tale e quale a come l'avete preso non potete modificarlo invece l'ultimo che è il share alike significa che se avete preso quel contenuto lì che è un che ha una licenza common creative tutto quello che ne fate che fate o quello che farete che creerete con quel contenuto lì ha ridistribuito esattamente la stessa maniera cioè una licenza creative common ecco qua questo schema vi fa vedere dall'alto verso il basso le varie combinazioni sono sei colomino il primo addirittura è un zero cioè non dovete nemmeno citare quello che vi dà più libertà andando giù la libertà le limitate perché sono proprio i diritti da rispettare queste concine qua più ce ne sono meno diritti avete voi e più ce l'ha l'autore vedete ad esempio il primo il by dovete solo una citazione l'ultimo dovete aggiungere ad esempio il fatto cioè dovete rispettare il fatto di non poterne ricavare soldi e di non poterlo modificare ad esempio ci può mettere questo tipo di licenza anche sui video in youtube i miei video normalmente sono messi sotto licenza creative common lo potete fare il momento che caricate il video attenzione che potete mettere questo tipo di licenza solo e solamente quando siete sicuri che nel vostro video non abbiate utilizzate materiale sotto copyright di cui non avete licenza ovviamente bene andiamo a vedere ora come reperire testi con licenza di utilizzo mi trasferisco per questo in internet vi faccio vedere questo sito jumper che è una piattaforma che è un punto di riferimento per chi come a me ama fotografia e grafica e vi dà veramente molti spunti anche sull'evoluzione professionale futura ve lo consiglio ma però vi faccio notare una cosa se andate giù c'è scritto proprio una nota che parla della licenza di utilizzo e vi dice che tutti i contenuti del blog possono essere utilizzati perché sono sotto creative commo e l'ultima versione la 4.0 cosa significa però in maniera specifica lo sapete se ci cliccate sopra e andate direttamente al sito della licenza che loro hanno scelto hanno scelto quella un po' restrittiva di dover citare gli autori quindi jumper luca pianigiani è l'autore principale che non potete utilizzare quel materiale lì per ricavarne i soldi e che non potete cambiarlo anche perché si tratta di testi sempre un po' sgradevole che qualcuno ci metta la mano andiamo a vedere un altro sito di cui farò un uso quasi smodato che è quello di disinformatico del giornalista paolo tivissimo che si occupa di bufale o meglio cacciatore di bufale oltre a occuparsi di informatica è un blog che utilizzerò molto perché riguarda la finta tesina che utilizzerò da tutorial da darvi per allenarvi e qui vediamo che anche lui dà la possibilità di gestire o meglio di utilizzare il il testo che lui ha scritto sempre che rispettiate alcune condizioni lui non usa una common creative si è fatto una licenza o meglio ha messo dei paletti di utilizzo ad esempio lasciare intatto e non atterrare i testi includere la dicitura che riguarda l'articolo e l'autore e alcuni che vedete qua insomma se rispettate queste piccole indicazioni lui vi dà la libertà di utilizzare un sito che è immenso e questo lo farò anch'io andiamo a vedere invece a proposito di sito immenso e utilizzatissimo andate a vedere wikipedia wikipedia che di solito è il vostro spacciatore di notizie e di informazioni anche lui ha una diciamo un utilizzo della licenza che voi spesso ignorate nel senso che anche qui non avete il copyright ma dovete utilizzare fare la citazione lo leggete quando dovete riformulare tutto il testo è obbligatorio fare alcune cose per cui se andate a vedere andate a vedere come si inserisce il riferimento proprio che loro chiedono di wikipedia nel proprio testo non basta l'ho segnato qua una citazione generale di wikipedia o wikipedia.it va citato assolutamente la singola pagina e se avete anche gli autori quindi fate queste precisazioni perché riguarda il copyright questo materiale che vi ho fatto vedere di questi tre siti è completamente a vostra disposizione ovviamente ce ne sono acquintalate in giro dovete solo in ogni caso andate a sincerarvi che possiate utilizzarlo bene andiamo adesso a vedere come organizzare i siti da cui abbiamo dedotto o cui abbiamo dedurremo i nostri testi per la tesina prima però voglio introdurvi il tutorial cioè una finta tesina che ho inventato per potervi dare la possibilità di allenarvi se non avete altro materiale il materiale ve lo fornerò io il tema principale di questa finta tesina sono le bufale o le fake news vedete che contiene questa tesina tutti gli elementi principali di cui abbiamo parlato prima i capitoli non sono altro che le bufale nelle varie discipline caratterizzanti la scuola secondaria primo grado o meglio le bufale nell'arte nella matematica nelle scienze nella tecnologia e così andare voglio dire una cosa è un altro consiglio tecnico prima di cominciare è importante che voi numeriate i vostri elementi man mano che li salvate sia sul computer che è nel vostro browser però se sembra normale che quando voi fate un ordinamento i numeri da 1 a 20 o 21 come in questo caso siano ordinati in questa maniera in realtà per il computer non è proprio normale perché solitamente i computer utilizzano un altro tipo di principio ordinamento alfabetico per cui i numeri spesso per alcuni software tipo bs studio che sto usando e funziona così loro mettono l'uno e poi tutti quelli i numeri che seguono che hanno la stessa iniziale cioè tutto il 1 e il 2 arriverà solo dopo il 19 certo questo vi scompiglia tutta la vostra organizzazione per evitare questo semplice consiglio dall'1 al 9 mettete sempre davanti a questi numeri il numero 0 questo vi assicurerà che la vostra ordinamento che la vostra numerazione sia coerente con quello che avete pensato bene passiamo ora invece a vedere come veramente come si organizzano i nostri preferiti nei siti io sto utilizzando il browser chrome che più utilizzato tutto quello che vi dirò funziona benissimo con gli altri a partire da firefox per organizzare i preferiti ho bisogno di vedere la barra dei preferiti tre puntini in alto a destra vado a vedere i preferiti mostra barra dei preferiti quando sono qui su uno spazio libero tasto destro aggiungi cartella scrivo tesina ecco adesso però voglio fare delle subdirettori delle sottocartelle dove voglio organizzare al meglio tutto e ad esempio queste immagini che vedete qua è quella del sito di wikipedia sulla bufala che voglio utilizzare come introduzione come faccio prima di tutto mi serve creare una cartella dove metti materiali dell'introduzione tasto destro sulla mia cartella tesina aggiungi cartella e scrivo 00 intro adesso qua dentro c'è come faccio a mettere il preferito dentro lì la cosa più semplice ci sono vari metodi prendo questo lo trascino lo faccio vedete io sto trascinando tenendo il mouse ancora il bottone sinistro del mouse premuto quando vado sopra tesina per alcuni secondi mi appare le sotto mi appare quella che è la struttura quindi sotto cartella e lo lascio proprio nella cartella sotto cartella intro stessa cosa farò anche per le altre materie ad esempio adesso aggiungo un'altra cartella col tasto destro scrivo 01 scrivo arte che è la prima delle materie quindi prima dei capitoli vado a vedere qualcosa che riguarda l'arte eccolo qui venezia ghiacciata in realtà è opera di un artista vado mi interessa vado in tesina e lo lascio su arte stessa cosa poi quando aggiungerò tutte le materie ad esempio educazione fisica anzi quello di piccola vado a vedere che qui gli spinaci non contengono tanto ferro come si dice in giro quindi per il vostro benessere sappiatelo vado ancora a prendermi qui non c'è il lucchetto perché non è un http s ma http il normale però non cambia nulla vado lì lo butto su educazione fisica ecco quando ho fatto tutto questo alla fine il vostro schema dovrebbe corrispondere a una cosa del genere come avete visto io quando uso due parole per una cartella o per un file li tengo uniti da un'innetta bassa fatelo anche voi per vari motivi questo è un po come si organizzano i nostri preferiti come faccio a salvare i miei preferiti se poi cambio computer parte che c'è sempre la sincronizzazione se siete o su chrome o su firefox però potrebbe essere utile darvi ad esempio io li ho salvati e vi li allego potete caricarli come si fa a salvarli sempre tre puntini andate in gestione preferiti quindi preferiti gestione preferiti o ctrl shift o qui in alto a destra ci sono ancora nuovi tre puntini sul sfondino blu e vai a esporta preferiti e esporterà un file html che poi quando dovete invece importare dovete semplicemente cambiare bottoni porta preferiti dovete importare quel tipo di file lì gli dite dov'è dentro il vostro browser e magicamente vi apparirà la nuova o la vecchia cartella che avete salvato in precedenza per quel che riguarda poi ancora i siti avete la possibilità di salvare i siti o meglio le pagine web come si fa andate su una pagina web tipo questa andate sui tre puntini altri strumenti perché una cosa ormai imboscata che non si fa più una volta si faceva molto quando la connessione era costosa si fa salva pagina con nome o ctrl s e lui vi salva dove li dite voi un file html con una cartellina che contiene le eventuali e immagini come qua attenzione che le immagini che contiene sono di solito bassa risoluzione non va bene con la per la stampa perché normalmente siti come questi bisogna cliccare per farli ingrandire mentre se voi salvate questo sito qua vi fa vedere e vi fa salvare solo la preview che di solito è a bassa risoluzione bene con questo ho terminato questa parte di gestione dei siti web parliamo di immagini digitali e come ci fa vedere pikachu questo di james stewart l'immagine digitale non è altro che una griglia di puntini che possono prendere un unico colore questi puntini si chiamano pixel e di quanti pixel abbiamo bisogno andiamo proprio a vederlo nelle slide successive partiamo a parlare di schermi uno schermo come questo che avete davanti full hd che tra l'altro la soluzione in cui sto registrando ora in obs ha una larghezza in pixel di 1920 e un'altezza di 1080 cioè insomma a 1920 colonne e 1080 righe se fate base per altezza capisce che ci sono circa due milioni di quei puntini se invece lo schermo un po più risoluto è uno schermo 4k raddoppio le misure in larghezza in altezza e quindi circa vado a finire 8 milioni di puntini allora se dovessi proiettare un'immagine su uno schermo 4k la cosa che mi serve è reperire in internet un'immagine che abbia almeno la larghezza di 3840 x 2160 pixel se voglio farlo a tutto schermo e qui finisce tutto il mio lavoro perché che io proietti su uno schermo di pochi centimetri come quello dello smartphone o su uno schermo gigante come quello del cinema che è largo parecchi metri la cosa non cambia basta una risoluzione d'uscita e non ho più problemi cosa ben diversa è quando stampo su un supporto fisico che ha determinate misure ad esempio su un foglio di carta vi faccio l'esempio della 4 dell'iso 4 che è la classico il classico formato delle stampanti e casalinghe la 4 misura 21 centimetri di larghezza 29 7 di altezza cosa c'entrano le misure ora ipotizziamo ad esempio di fare di stampare un cerchio su che sia abbia un diametro di circa 8 9 centimetri come quelle che vedete su uno schermo se state guardando sul computer quello a sinistra ha una risoluzione di 10 punti cosa vuol dire vuol dire che la mia immagine di circa 8 centimetri l'ho divisa in 10 colonne e in 10 righe in totale 100 di quei punti lì se voglio fare un cerchio con 100 punti il risultato quello che vedete lì è molto sgranato sembra di vedere minecraft solo che io raddoppi i punti riporto 20 sia in altezza che in larghezza vuol dire che ho 400 punti con 400 punti comincio già intuire almeno che qualcosa che forse è circolare la cosa migliorerebbe molto se continuo aumentare la risoluzione di questa immagine fino a che punto allora la regola è grosso modo questa dovete misurare l'immagine che dovete stampare nel mio caso è rotto centimetri ma la voi potete anche immaginare di stamparla tutta pagina un 21 per 29 7 e moltiplicare per 100 il numero dei centimetri in questo modo troverete il numero di pixel di cui avete bisogno caso pratico voglio stampare in mezzo al mio A4 un'immaginona di 20 centimetri per 15 quanti pixel deve avere l'immagine che vado a ricavare in internet moltiplico per 100 quindi 20 per cento fa 2000 e 15 per cento fa 1500 pixel se le trovate un po più grandi va bene però ricordatevi che fino a 120 quindi quando un 20 per cento di più di questa regola qua forse vedete qualche occhio veramente buono può vedere la differenza ma ricordatevi che dopo di quello anche l'occhio più esperto se non si usa una lente di ingradimento la differenza non si vede per cui inutile prendere immagini gigantesche che tanto la differenza ottica non è percepibile dall'occhio umano vi faccio l'esempio pratico allora questo è proprio 2000 pixel per 1500 pixel questo esempio di un occhio molto bello se io invece l'avessi preso in internet un'immagine un po più scadentina ad esempio di cinque volte meno risoluta in larghezza in altezza cioè 400 per 300 vedete non si può utilizzare perché tutta sgranata fa l'effetto un po di quel cerchio che abbiamo visto precedentemente bene dopo aver visto quali sono le dimensioni necessarie per le nostre immagini in pixel andiamo a vedere dove cercarle passiamo in internet e vi presento il mio primo portale di fotografia il mio preferito in realtà qui ci sono tutte fotografie con licenza in realtà common creative zero cioè non dovete nemmeno citarla ma ne parliamo un attimo successivamente l'interfaccia è molto semplice ci sono c'è un motore di ricerca interno per cui ci sono delle caselle di ricerca sia nella home che quando avete state già cercando qualcos'altro la cosa è molto semplice direi di fare una prova andando a cercare abbiamo visto una foto dell'occhio un'altra foto di un occhio magari per cambiarla scrivo occhio e vedo che ci sono solo due immagini perché perché come tutti i motori di ricerca ha un database in inglese perché i fotografi arrivano da tutto il mondo quindi vi conviene scrivere in inglese se non sapete dove andare a cercare un dizionario non usate quelli di google perché sono molto generici vi consiglio di utilizzare word reference se andate qua scrivete occhio vi appaiono tutte le possibili traduzioni non solo come occhio dal punto di vista organico ma anche come senso lato di vista o come foto foro circolare come avete visto nel caso del pantheon quindi si dice ai come l'abbiamo visto andiamo a riprovare a cercare qualcosa con la traduzione inglese e qui vedete che vengono fuori centinaia di fotografie becchiamone una a caso non lo so ad esempio questa qua questa mi piace anche qua di Victor o questo azzurrone qua di Daniel ecco quando cercate una foto vi viene un'anteprima potete andare nel cerco nel pulsante di download andate su questa freccetta qua e cercate la risoluzione che vi serve nel nostro caso abbiamo visto che servivano 2.000 nella foto di esempio di calcolo per 1.500 questa va più che su va più che bene vedete che quando la cliccate viene fuori un ricordino che vi dice ragazzi guarda che Daniel Kuselev potreste anche ringraziarlo perché questi signori qua hanno dato la loro foto in maniera gratuita e non c'è nemmeno bisogno di citarli però come dice le fac delle licenze anche loro anche se non richiedono esplicitamente la citazione la gradirebbero molto quindi cercate di farlo in questa maniera qua e lui ve lo ricorda basta copiare questo testo e scrivevelo da qualche parte in realtà non ce ne sarebbe bisogno perché nel nome del file vi ricordano ancora il nome dell'autore eccolo qua Daniel Kuselev altra cosa avete visto che il file è finito in una cartella che di solito se non avete settato i vostri browser è quella di download non fate questo errore di dover andare a cercarlo ogni volta dovete dire al browser di andare in una cartella specifica ogni volta che scaricate qualcosa e come si fa basta andare ad esempio nei tre puntini in alto perché che riguarda chrome ma è simile anche in firefox in altri andate in impostazioni dovete andare giù velocemente nelle avanzate nel download dovete dirgli non di andare dentro al download la cartella download ma di chiedere di salvare ecco la volta che avete fatto questo lavoretto qua in teoria adesso lui vi chiede dove salvare finalmente potete cercarlo ecco qua vi viene fuori anche il nome del file io dopo qua lo metterò nella tesina e così via ecco questo è un po' quel che riguarda il mio primo sito tutti gli altri funzionano in maniera analoga adesso andiamo fuori dal nostro Daniel andiamo a vedere ad esempio un altro sito che ha un'interfaccia anche in italiano Pixabay ma il database è sempre in inglese scriviamo sempre il nostro i eccolo lì vedete che ci sono immagini diverse allora Pixabay vi dà anche delle immagini commerciali se non trovate nulla di buono perché in realtà è di proprietà di una società che ha invece dei portali a pagamento allora andiamo a vedere qui cosa succede occhio blue eye lo vedete anche qua quindi in qualche maniera la vostra immagine c'è lì più che scegliere quale risoluzione ve la danno sempre a quella maggiore in questo caso 4000 per 2394 pixel per cui lo fate col download gratuito ma anche qui potete sceglierlo in realtà mi ero sbagliato e fate il download dopo di che essendo registrato nessun capture l'ha mostrato ecco lì gli fate tutta questa cosa qua la prima volta e basta non sto lì a farvela dopo di che potete scaricarvi le vostre immagini andiamo a vedere invece a proposito di common creative il sito proprio della common creative perché anche la common creative ha proprio un motore di ricerca interno per cui se scriviamo ai qua anche qui verranno fuori molte immagini tra cui anche quelle che sono su pixabay non quelle che vengono fuori su unsplash anche qua stessa cosa addirittura qui vengono fuori i tipi questo è un cc0 quindi non dovete nemmeno citarlo qua dovete citarlo e non è commerciale qui vi danno già un'idea di quello che è allora le immagini di unsplash secondo me sono quelli sempre un po più fighette dopodiché potete andare a girare sugli altri vediamo questa immagine qua che ne so questa eccola lì vi fa vedere tutte le informazioni eccolo questa ancora immagine molto vecchia da quel punto di vista lì e potete scaricarla tranquillamente quindi quando avete fatto potete andare direttamente dove c'è l'immagine e potete andare da lì a scaricarla allora andiamo a vedere invece qualcos'altro un altro che potete utilizzare è i crepo ma ce ne sono veramente parecchi c'è anche pex e funziona la stessa maniera ma secondo me il database è molto simile a quello di pixabay quindi ne avete a bisogno bisogno di queste e portale di immagini quindi non potete lamentarvi di dover trovare per forza immagini senza con anzi con copyright una cosa importante da dire è che ci sarebbe la possibilità anche con la ricerca normale perché se io scrivo occhio o anche ai torniamo comunque in inglese su google io vado a vedermi in google immagini c'è la possibilità di vedere tantissime immagini simili però come faccio a filtrare allora la prima cosa è che posso utilizzare gli strumenti e andare a vedere il diritto d'utilizzo è basato un po sul common creative non è chiarissimo però ad esempio se voglio tutte quelle che possono essere riutilizzate al massimo possono andare qua contrassegnate per essere riutilizzate se voglio un common creative invece non commercio ad esempio questo è chiaro che più sono restrittive più ci sono immagini ma per quel che riguarda la dimensione tutto il nostro lavoro ecco qui google da nove mesi questa parte ha dato veramente il peggio di sé nel senso che non si può più regolare con l'immagine si può andare in dimensioni ma grandi medio o icone grandi o media significa grandi che più di 1000 pixel ma ogni volta che vado a vedere quelle grandi come qua non riesco a vedere di che dimensione devo prima cliccarci sopra e poi appoggiarmi sopra ecco questa è 1920x1280 e per ogni immagine dovrei andare a verificare se l'immagine ha le dimensioni finora non ce n'è una di 2500 che mi aggrada per cui la cosa è molto e molto difficile da gestire ma se anche mi aggradasse una di 1920 quando ci vado sotto in realtà lui non ti fa scaricare l'immagine ti manda a il sito che in questo caso è un sito di wikimedia che è la base diciamo iconografica di wikipedia anche qua potete utilizzare e fare il download è tra parentesi un altro portale wikimedia commons dove dovete andare a fare il vostro download dove potete vedere la risoluzione pure resolution ve la fa vedere tasto destro salva immagine con nome però il passaggio è veramente duro e quindi io non vi consiglio più google come cercatore di immagini anche perché lo stesso google dice che lui cerca con suoi algoritmi le immagini common creative in realtà però dovete assicurarvi voi della liceità di questa licenza che può cambiare anche velocemente quindi è un lavoro abbastanza lungo vi consiglio invece come motore di ricerca bing della microsoft che se scriviamo qua ai vi faccio vedere andiamo a vedere in immagini eccolo qui andiamo a vedere il filtro che praticamente sono gli strumenti di google posso andare a vedere il tipo di licenza e qui ci sono tutti creative commo e così finalmente me la cavo e guardate qui dimensioni immagini ci sono piccola media grande molto grande ma almeno la mia era 2000 per 1500 ah scusatemi partita questa finestra ritorniamo noi vi vengono fuori tutte le immagini che hanno questa dimensione ad esempio ce ne sono centinaia prendiamoci questa immagine qua avete visto che c'è scritto che 4000 per 2394 vi danno anche delle delle informazioni maggiori fanno vedere anche altri tipo di immagini del genere in questo caso poi potete finalmente andare a scaricarlo col tasto destro salva immagine con nome quindi vi consiglio di sicuro il nostro bing come motore di ricerca generico per le immagini rispetto al nostro google allora adesso passiamo invece a una fase molto importante perché queste immagini dove vanno salvate vanno salvate sul computer e come organizziamo la cartella del nostro computer andiamo a vedere quindi come gestire i materiali quindi torniamo direttamente sullo schermo in questo caso su una cartella del mio computer voi vi fate una cartella tesina qualsiasi parte del vostro computer ci andate dentro cliccando due volte e cominciamo a costruire la struttura a per questo voglio un attimo farvi tornare alla mente la mia struttura la mia struttura della tesina eccola qua quindi è formata dall'introduzione i vari capitoli che vanno per tutte le materie allora qui vi faccio vedere come io numero di solito la parte dell'attesino di un lavoro allora di solito do lo 00 all'introduzione i capitoli do numero che va dall 169 spero bene di non averne molti di più altrimenti diventa una tesi di laurea gigantesca una conclusione dal numero 70 le note dal numero 80 la bibliografia numero 90 l'indice 99 do decine di differenza tra uno e l'altro in modo che se devo inserire degli capitoli o delle cartelle successive ho la possibilità di averne a disposizione dei numeri perché riguarda 70 79 per la conclusione da 80 89 per le note da 90 98 per la bibliografia quindi questo è la mia struttura e come nomino e come numero in realtà le cartelle tornerei a farvi vedere adesso come fare per farlo altrettanto sul vostro computer allora prima cosa tasto destro la nuova cartella ci sono vari metodi per farci delle nuove cartelle e scrivo il numero per primo e faccio la intro questa è la cartella dopo la prima cosa che dovete fare assolutamente è andarci dentro e farvi una nuova cartella possiamo farlo anche con questa icona giusto per cambiare e scrivere immagini fatta questa mi serve un'altra nuova cartella potete fare anche potete andare anche qui a vedere come si fa quindi contro maiuscola n in questo caso quindi facciamolo anche col terzo metodo e scriviamo il nome di testi anzi facciamolo con la t grande ecco fatto questo adesso abbiamo una cartella torno su al cui interno ci sono due cartelle immagini testi è fondamentale dividere queste due questi due tipi di materiali che usate allora torniamo su adesso voglio farmene per tutti i vari capitoli non sto lì a fare tutto sto lavoro no tante volte vado lì faccio copia e incolla e mi si ecco qua mi si crea questa nuova copia vado a rinominarla cioè tasto destro rinomina e scrivo la quella dopo c'è 0 1 la primo capitolo da me si chiama arte perché sono le fake news nell'arte così per fare questa cosa molto più velocemente vi consiglio invece di stare lì fare con i tasti destri di cliccare su una delle cartelle tenere premuto il tasto contro e poi mollare e qui vi si fa la nuova cartella dopodiché basta fare f2 per fare rinomina diventa molto più facile questo in questo caso qua posso mettere 02 educazione fisica altra cosa che vi avevo detto non staccate mai i nomi delle cartelle con degli spazi così questa maniera perché potrebbe esserci dei problemi per alcuni software di recupero dei dati nel caso succedesse qualcosa tenetelo tutto unito io di solito uso la lineetta bassa che dà meno fastidio ed è una delle poche ancora in origine di 30 anni fa che era uno di piccoli simboli di pochi simboli era possibile utilizzare comunque tenete un nome unico non dividete con gli spazi ecco una volta che fate così ovviamente la stessa cosa lo fate la copietta vi fatto qua vi fate e 03 che in questo caso qua è la geografia fatto in ordine alfabetico per non disturbare nessuno e poi se guardate avendo copiato ovviamente dentro qua ci sono già tutte le vostre immagini e la vostra cartella immagine la vostra cartella dei testi vi faccio vedere un attimo quello che avevamo già fatto per farvi vedere com'è la struttura finale come vedete con la conclusione la nota bibliografia che anche se hanno la loro cartella immagini o testi che servono a questo è fondamentale per suddividere il materiale in modo poi di organizzarvi durante la creazione della vostra tesina ma soprattutto per fare qualcos'altro come vedremo le presentazioni nel quarto giorno o successivamente per riprendere in mano il lavoro fra qualche tempo o darlo a dei professionisti che ve li impagini quindi dividete in questa maniera il materiale ecco questo per cui riguarda i materiali è un po tutto vi ricordo quindi che dovete salvare le vostre immagini o i vostri siti web direttamente nelle cartelle giuste e quindi mi accingo a terminare la seconda parte della prima giornata e poi di lasciarvi un attimo di riposo perché nel pomeriggio parleremo essenzialmente di grafica nozione di base vi aspetto fra poco resta stappo 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 stappo